Sei pronto? Tu mi devi spiegare una donna incinta che ci faceva l'attento. Mi è successo qualcosa di brutto? Perché tu quando ti capita qualcosa sai subito se una cosa è bella o una cosa è brutta. E chi è il padre? Ma Paolo, non è così importante il padre. È giusto che lui sappia, poi decidete insieme. Se lo so che il furgo ne serve, lo so. Devo fare una cosa però, devo fare una cosa importante. Devi essere sincera almeno questa volta. Chi è il padre? Tu sei una persona buona. Pronto Mario? Tutto bene? Sì, credo di sì. Io credo di no. Quanto tempo siete stati assieme? Otto anni. E perché è finita? Perché volevo la casa, la famiglia, i figli. Ma tu un figlio lo vuoi o no? It's our dearest ally. It's our closest friend. It's our darkest blackout. Dimmi qualcosa. C'è bella. It's our final end. My dear sweet nothing. Per la prima volta ho visto un futuro. Let's start anew. From here on in, it's just me and you. I waited for something. Thank you so much wouldn't you. Remember the rest of us?